Sei pronto? Hai già partito? Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Siete collegati con myspace.it, il sito che in tutta Italia fa furore. Bene, cosa possiamo dire di più? Noi tutti i giorni siamo collegati. Voi, se potete, potete mandarsi le vostre e-mail, perché noi le riceviamo, le ribustiamo e le rimandiamo. Siete collegati? Bene, qual è il sito da sempre andare a vedere? Fabiette e David, officialpage.it, perché lì troverete notizie aggiornate tutti i giorni su novità, commenti e adrenalina pura. Bene, in questo nostro momento stiamo per andare a mandare la bruschetta. Se volete venire con noi, collegatevi al sito www.bruschettaitaliana.it specialmente se l'avverata voi, prendete la bruschetta da segretaria, quella suggerita dai migliori chef italiani, con doppio raso piccante e doppio peperoncino. E poi basta. Ciao!